Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Illuminati Craft con Iacorollo e Tech4Play Ciao Ehi ciao Ragazzi siamo qui a fare le Lucky Wars perché ci piacciono e siamo lezzi Quindi ci buttiamo subito in partita e come al solito speriamo di fare i lizzini Ok eccoci nella prima partita Vediamo quanto duriamo qua Molto poco immagino Oddio ho trovato Ma ragazzi una cosa è pericoloso Oddio mi picchia mi picchia Mi picchia il coneglio Ma come ti picchia il coneglio C'ha le carote in mano c'ha le carote in mano E' un ninja ragazzi è un ninja Ok sta prendendo da solo Ti senti bene Te lo giuro mi picchia quelle carote Cazzo 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 no Cazzo 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 no Perché si è tipato uno da me Fammi prendere la roba dalle chest Non posso nemmeno ammazzarla perché Ero impegnato a combattere contro il coneglio Vabbè io me ne vado Cosa è arrivato E' arrivato un tipo che si è tipato da me Però non mi vuole uccidere Quindi non l'uccido Io sto cercando di capire cosa mi è arrivato Allora Ma quali di là che ci sono qua Ragazzi c'è uno al centro Io quasi quasi ci vado diretto Anzi no ci vado diretto E anche io devo tiparmi Oddio si è tipato il mondo però Ok uno l'ho ucciso No oddio quello lì forse è messo bene Mi lancia le cose Ce ne sono due che stanno facendo team su un'isola Te lo dico Ah io sono al centro con te Metano Eh si e io mi sto sistemando l'inventario un attimo Perché non è che si è messo poi così bene Cioè Sto arrivando io al centro Mi sono tippato Sono io Iaco Cos'è sta merda Cos'è oh Ho sentito un rumore Ah il guardiano No ti dà fatica Uccidilo 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 il guardiano Se ti dà fatica è la fine È persa la partita C'è uno sopra Non so chi sia Tranquillo con Iaco Il tetto qua Cotta come le gatte Ragazzi ho paura Io prendo questo Lucky Che sicuramente No 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 Coso lezzino qua L'ho ucciso Cosa cosa lezzino Era la blezzina lì Ah il blezzino Il blezzino Vabbè è carino dai Cos'è sta roba Uh cosa ho trovato Sette mele dorate Ho trovato un coso con Fire Protection Ma non è che sia poi così buono Oddio c'è un pezzo sotto Ma che che ti sta sparando Oddio Ragazzi Come mi spara le frecce infocate Sotto c'è tipo un coso gigante Con tutti i Lucky Block Figo Ah di Eh si così Ma non so se è il caso di scendere È il caso di scendere Eh io mi sto facendo l'armatura così Fate voi Cioè oddio spero di farmela Perché Per ora non è che abbia chissà che cosa Però Minimo di qualità dobbiamo rifarmelo Ok di nuovo Ma cosa sta Oh c'è uno che continua a sparare Ma non capisco lo che Eh ragazzi Un attimo Ha provato il Black E lo che pariva anch'io Ah cosa ho trovato Cosa hai trovato man Cosa ho trovato Dammelo P Io Nooddio Io ho trovato un bordello di underpearl Quindi posso salvarmi Sì sì Fata facendo team Non l'hai notato Già da prima Ok schifezze per ora Sto pendendo anche Tifosi Tec che sono sotto di te Ciao tec Buongiorno Oh c'è la lava lì Vabbè dai Quindi cosa fanno No la lava la lava Oddio Oddio Ma perché prende tutto fuoco Oddio cosa è successo qua È quello che ci lancia le cose Ah ha infuocato tutto Eh vabbè dai Io apro gli ultimi Lucky Block E poi vediamo un cosa fare Tanto Ci abbiamo tutta la roba in teoria Quindi Oddio Beh Tutta la roba Ragazzi Ho trovato la spara che fa 13 di danno Con Sharpness Looting Smite Tutto Piazzo il Lucky Block Che è l'ultimo che rimane Forse Molto schifo che mi passi davanti Vabbè c'era lo schifo dentro Uno ti ho trovato però io Questi 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 Come si è timpato qua Stiamo attenti eh Ah no niente È tornato Non so Ho visto se è trasportato Poi è tornato indietro Ragazzi io ho trovato un bordello di underpearl E quindi Mi date le frecce che trovate Eh io ne ho un bel po' però Aspetta Ma dove stanno Io lancio le uova Uno è laggiù sì Io ragazzi mi tipo da uno Tanto ho trovato un bordello di underpearl Vediamo Olle Ok Su un tetto di là Ah sotto sei là Eccolo qui Eccolo qui Muori tantissimo Sto lanciando le uova Lanciateli le uova Ok mi ha dato Ragazzi va l'enderpearl Questo qua mi ha dato un altro bordello Io praticamente ho fatto la collezione Mi tipo da tutti Dai Aspetta Ma mi incastro Uova 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 Ma che cavolo Ok perfetto Guarda la sua isola man Guarda come io l'ho ridotta Non c'è più l'isola Ma sotto di me c'è uno Sì ok Sì Due anzi È distratto Ok uno Ok Uno è distratto da me No ancora lì È scappato Dio mio Io ho rischiato tantissimo Qui ragazzi Ok No 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 Dai Svetano No ragazzi Ragazzi mi ha fatto malissimo Scappo Scappo Scappa scappa Mi ha fatto malissimo Non so come No non è morto Si l'ho ucciso Cosa? Quando l'ho ucciso? Vabbè io non lo so ragazzi Non lo so Le partite più strane Sarò cheater C'è un ucciso da Da uno mi ci sono tippato ora È distratto da me Vai 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 Ah eccolo là in alto Ok Dai no si è tippato È buttato No aspetta forse si è tippato Ok è morto è morto A fila Ok non ho trovato un altro ragazzi Che è l'ultimo che rimane Ci penso io ragazzi Ci penso io Ha fatto tipo La struttura enorme Fa segno di team Però siamo rimasti in alto noi Quindi non è che Ok l'ho buttato di sotto Mi ci tippo instant È quello che fa l'inizio Oh si è tippato al centro Si è tippato al centro Dov'è? Dov'è? Al centro Eccolo qua Arriva anch'io Ci diamolo Dai 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 Morto Tech Anzi Aia Ragazzi cosa state facendo? Vi state scannando? No no Figurati Ah bastardo Oh schifo Schifo No 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 Ha vinto te No Ho vinto io Quanta vita avevi? Quanta ne avevi? Ho tirato due spadate con la spada forte Eh sì infatti mi aveva levato un po' l'edolo di vita Tipo metà vita me l'aveva levato tutta Oddio Ok ragazzi eccoci nella seconda partita Una mappa che sembra a forma di stella al centro Non lo so Piccola stella No ma ci avete fatto caso È tipo una stella Penso Non lo so ma non so Fa schifo Allora adesso qua l'ho presa Non uccidere i cani Ti vogliono bene Poi li esplodono Sì Infatti ti conviene ucciderli finché poi Cioè oddio Non lo so perché alcuni esplodono Altre non esplodono Non l'ho ben capito Cos'è? Cos'è matato? Cosa mi ha dato? Ok mi ha dato questo Perfetto E qua? Ma io ho trovato lo schifo No dai Purtroppo non ho un'arma decente Ragazzi io vorrei tipparmi al centro Però si tipperà al mondo Ho paura Sicuro Mi tipperò sopra al centro infatti Eh si è già tippato uno No Quanta gente Il lucky block che mi ha dato il lucky block Ecco qua ce l'ho già uno sotto ragazzi Cos'è questo? Questi sono meglio di questi Dai si stanno scannando Si stanno scannando Sono tre sotto di me praticamente che si scannano Ora arrivo io all'ultimo Arrivo io e clean up Dai Si ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta clean up Va bene Va bene Adesso arrivo Ero in tre 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 Nostro centro Aspettate che c'è un altro sotto Non fate cazzate Sono io adesso No c'è un altro Ok sono arrivato Sono arrivato ragazzi Ragazzi vi ripeto C'è uno sotto l'isola Quindi non fate cazzate No io sono al centro però Ok Oh l'ho visto Sta salendo E' salito E' salito Si si l'ho visto salire Ehm Io non sono messo bene Gli armatura Quindi non so Nemmeno io guarda Sta ancora sopra Sta ancora sopra Ok Ok io sono pieno Cazzo 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 E' potente Si cavolo che è potente C'ha tutto lui Aiuto 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 Aspetta Eccolo 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 Dai 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 Nella lava Nella lava buttiamo Alla spada potentissima lui Alla spada potentissima No ragazzi era tutti lui Era tutti Ce n'è arrivata E no Ha ucciso tutti Aveva tipo la roba Straupi Ok ragazzi Eccoci nella terza E ultima partita In cui faremo Ovviamente i lezzi Perché è l'unica cosa Che ci riesce bene E a me è sparita Ah no ancora qua A parte Io mi tocca combattere I ragazzi con una pala Il lucky block È veramente Vabbè Il lucky block Sono lezzi Un cane Vabbè dai Maglio di niente E c'è il pollo Che esplode No non è esploso Cosa ho preso Però non è molto istante Cosa ho preso Io trotto la spada in diamante Non è male Quindi tutto sommato Non mi posso lamentare Però fa un po' schifo Ho ucciso uno Ho ucciso uno Ah Jaco attento Sei si è tippato uno accanto Ci sono anche io Ci sono anche io Ci sono anche io Ah eh Porca troia Che colpo mi ha dato Ti vendico Ti vendico Ti vendico Dai cane aiuta Mi cane Ok l'ho ucciso L'ho ucciso Uh Jaco ti ho vendicato subito C'è il centro tu? Sì sono al centro Però tipo Qua sicuramente ci sarà Ho salito sul tetto io eh Eh no Io sono nella parte sotto Nel sotterraneo Perché se no Mi si tippa il bordello di gente intorno E sinceramente Non ha senso Quindi sono sotto Apro dei lucky block E poi si vede Sì 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 E tanto non siamo arrivati nemmeno in tanti Quindi ce la possiamo fare forse Chi è che lancia le cose qua? Uh diamante ho trovato Ok ok buono Tec tu ce la fai vedere da me? No aspetta Sto vedendo se c'è qualcosa di interessante qua Ah ok sei proprio sopra di me Lo sai? Guarda sotto Dovresti vedere il mio nome tipo Non ne sono sicurissimo Ma in teoria sì Nel senso che mi stanno frecciando Eh cavolo Ma Trovato Ho sento delle slime Eh sì eh Gelatine merdose Il bambino cosa fa? Niente Il bambino Ma scusa una cosa Una domanda Il bambino tu lo vedi con la mia skin? Eh no con la mia Ah no ok Perché? È skinnoso È lezzo È lezzo proprio Io continuo qua ad aprire Nulla C'è uno là che mi tira le frecce E stai attento Allora se tira le frecce Perché se no finisce male Io finisco un attimo di Mi sono allontanato adesso Aprire qua Sono andato altri due lucky Blocco apro e poi esco eh Ok Oddio il creeper carico Olle Ok Madonna che sfiga però eh Tra streghe Creeper cariche e tutto Cosa mi manca? Mi manca il Cosa Il cappellino Non ce l'ho Eh A me invece sono messo Cioè ho tutto Però sono messo abbastanza male Ma Ho trovato la pozione misteriosa La utilizzerò alla fine La utilizzerò alla fine assolutamente Sì Sì E poi E poi beh E poi beh Chissà cosa succede Ah ho trovato il bambino Sì Però ha trovato il skin bellino Eh sì Allora vediamo se qua c'è qualcosa altro No per ora no Ah le palle di neve prendiamole Sono utili Io soprattutto volevo Non servono niente le palle di neve Ma stai scherzando? Non esplodono Sono le uova che esplodono No e le palle di neve ti rallentano eh Rallentano tantissimo Eh voglia Rallentano tantissimo il nemico Lo fanno andare tipo a una all'ora Quindi se le usi Non lo sapevo Lui non può fare nulla Ora te che siamo noi due qua Dobbiamo trovare assolutamente Ecco ce n'è uno qua Ce n'è uno qua Aspetta lo uccido Aspetta 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 Dov'è? Cosa? T'ha ucciso T'ha ucciso Ma come? Ha ucciso anche me un colpo Ma un colpo mi ha ucciso Con un colpo Ha un colpo anche a me Ah va La pozione OP pure lui mi sa No Quindi ragazzi Purtroppo non ci è andata bene questa volta Ma sono sicuro che la prossima volta ci rifaremo Comunque una tech l'ha vinta Quindi più o meno possiamo dire Che il gruppo ha vinto Almeno una Comunque ragazzi I loro canali come al solito Trovate in descrizione Io spero che il video vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao Ciao Ciao